La riflessione che le offro è che il Presidente della Regione Emiliano dice che con la Fialz si trova a casa, nel senso che è il sindacato con il quale ha potuto discutere. Voi vi ritrovate in questa affermazione? Sì, indubbiamente sì. La Fialz è il sindacato, diverso da tutte le altre sigle sindacali, è una famiglia. Come sempre lo dice e lo ribadisce il nostro segretario Pino Carbone, ha tante anime e in queste anime troviamo sempre l'unione. La Fialz è un sindacato innovativo, nuovo, a contatto con la gente, per la gente, per i nostri infermieri, per il personale sanitario. Siamo sempre in prima linea e come lo definisco sempre io, la Fialz è a portata di mano. Quindi grazie per questo intervento e grazie al Nursing Time.